Presentato oggi un disegno di legge davvero interessante per la difesa del suolo lombardo. Sì, assolutamente l'obiettivo è quello di contenere l'utilizzo del suolo, ovviamente per cercare invece di favorire la tutela anche nel settore come l'agricoltura, che è un settore assolutamente importante e fondamentale anche per il futuro. Per troppo tempo si è costruito un po' ovunque e invece noi diciamo no, diamo un taglio, basta, piuttosto che consumare il nuovo suolo recuperiamo le aree di smesse. Questa è la linea tracciata in questo provvedimento e soprattutto basta a comuni che si espandono e continuano a costruire nuove edilizie residenziali senza che ci sia un aumento della popolazione. Questo sembra assolutamente assurdo, ma in realtà noi non vogliamo penalizzare il mercato delle edilizie, assolutamente, che è un mercato molto importante, prevediamo invece dei forti incentivi sulle ristrutturazioni, quindi rendiamo più bello ciò che già esiste e dall'altra parte per chi volesse demolire le brutture e ricostruire qualcosa di più bello, quindi diamo anche un'idea di bellezza del paesaggio e del territorio, diamo anche lì delle incentivazioni tali per cui addirittura non si pagherebbero per il 90% gli oneri. Questi sono segnali importanti di controtendenza rispetto a quello che c'è stato, anche perché i dati sul consumo del suolo in Lombardia sono dati molto molto preoccupanti. Quali sono i parametri di questa legge per permettere a un comune di costruire? Allora bisogna che negli ultimi cinque anni la tua popolazione sia cresciuta del più del 25%, se non è cresciuta negli ultimi cinque anni, mi spiace, ma suolo non edificato non lo tocchi assolutamente. Pietro Forrori continua la difesa della Lombardia? Continua la difesa della Lombardia, aggiungo continua orgogliosamente la difesa della Lombardia, siamo nati per quello, lavoriamo per quello, siamo all'ilà di quello che dicono i giornali, siamo sempre più forti. Diciamo che qualche errore l'abbiamo fatto, ma in questi anni abbiamo imparato. Abbiamo imparato come fare, dove vogliamo arrivare, cosa fare per arrivare dove vogliamo arrivare. Cominciamo a difendere la nostra agricoltura, cominciamo a difendere il nostro suolo, il nostro territorio, cominciamo anche a difendere il nostro lavoro delle imprese lombarde. Abbiamo cominciato difendendo il suolo della Lombardia contro le speculazioni edilizie, difendiamo la nostra agricoltura, i nostri prodotti a filiera corte a chilometro zero e stiamo lavorando anche per difendere il lavoro delle imprese lombarde. Perché, come succede in altre realtà europee, dell'Unione Europea, vogliamo applicare il codice degli appalti vigente nello Stato italiano, come fanno gli altri Stati europei, cioè interpretandolo per fare in modo che anche negli appalti, nei bandi d'appalto vi possano essere delle clausole preferenziali, ponderate insieme ad altre, affinché una particolare tutela venga data per quelle imprese che hanno esperienza sul territorio, che conoscono il territorio, che vengono da vicino al territorio. Questo per tanti motivi, ci sono tante ragioni per difendere i nostri lavoratori, che sono i nostri contribuenti, ma anche perché un'impresa che conosce il territorio e che è conosciuta sul territorio vuole fare bella figura e non fare brutte figure, prendere e scappare, e poi perché un'impresa che viene da vicino consuma meno, consuma meno carburante, meno energia, non deve fare fatica per spostarsi, non ci stiamo inventando nulla. In Francia, in Germania, in Olanda fanno così, noi invece abbiamo fatto i più brillanti, i più bravi, non l'abbiamo mai fatto. D'ora in poi presenteremo un progetto di legge perché d'ora in poi lo si faccia, anche in Lombardia possiamo farlo anche noi.